Oggi è il mio turno per guidare la Lamborghini Huracan, avrei voluto provarla in pista per spingerla come si deve, purtroppo non ho il tempo, approfitterò del viaggio per portare mio figlio agli allenamenti di calcio per provarla insieme a lui e dirvi come va questa Lamborghini. Ti piace verde? No, bella verde, bella, pariscina, Lamborghini deve essere verde, gialla, arancione, più che gialla è l'arancione, l'oro. Comodo? Non c'è tanto bagagliaio davanti quindi devi tenerlo lì. La lasciamo in corsa? Sì, ma ci sono davanti i bagagliati. Sì, di dietro c'è il motore. Sta solo a fare un po' di fatica a prendere i figli in biglietti. Che bel rumore. Hai vuoto la pancia. Eh? Hai vuoto la pancia? Fino a 130 possiamo arrivare. Già finita. Siamo già a 130. 610 cavalli spingono. Andiamo da 90 così non ci tamponano. Basta. Già arrivati. Guarda che con pochissimo spostamento del volante guarda come si sposta la macchina. Vedi? Perché deve essere un volante sportivo. Poco spostamento del volante e tanto spostamento della macchina. Deve essere rapido quando entra in curva. Sì. 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 Sì.